Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera! Oggi è un nuovo video-lezione a tema Atene. Prima però lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Se non avete ancora visto la mia lezione su Sparta, ve la lascio qui sopra. Atene sorge nell'Attica, una penisola circondata da tre lati dal mare, vedete qui nella cartina. L'Attica era preoccupata da montagne che non erano adatte alla pastorizia e quindi l'agricoltura era concentrata nella pianura. Atene è stata fondata dagli Achei, quindi dai Micenei, e in seguito viene dominata dagli Ioni. Già durante l'età Micenea, Atene era un centro di media importanza. Se non avete visto la mia lezione sui Micenei, ve la lascio qui. Durante l'età arcaica, Atene è governata dagli aristocratici, che eleggono annualmente nove arconti. Al termine del loro incarico, gli arconti entrano a far parte dell'Aeropago, l'assemblea degli anziani. La popolazione, abbiamo detto, che durante l'età arcaica nelle poleis è esclusa dall'esercizio del potere, anche se può riunirsi nell'ecclesia, che è un'assemblea popolare che però ha pochi poteri. Le prime leggi scritte di Atene sono date nel 620 da Dracone, che è il primo legislatore. In questo modo Dracone limita i soprusi degli aristocratici. Tant'è che infatti una riforma draconiana ancora oggi viene utilizzata nella nostra lingua parlata per dire che si tratta di una riforma severa, punitiva. Inoltre Dracone introduce le prime leggi che vanno a regolare l'omicidio. Di fatto, l'omicidio viene distinto tra premeditato e involontario. A noi questa definizione sembra banale, che ci sia una differenza tra un omicidio involontario, quindi commesso involontariamente, e tra un omicidio premeditato. Non è così banale. Ed è a Dracone che dobbiamo questa distinzione. Peraltro anche le punizioni sono diverse, perché chi premedita un omicidio viene condannato a morte. Chi invece lo compie, ma in modo involontario, viene esiliato. Dovete sapere che alla fine del VII secolo una crisi agraria si abbatte sulla Grecia. E diciamo che dal punto di vista sociale c'è forte tensione, perché i braccianti agricoli, i teti, cedono i loro beni, sono costretti a cedere i loro beni perché sono pieni di debiti. Allora abbiamo la figura illuminata di Solone, che è un riformatore ed anche un arconte, che attua una riforma tra il 594 e il 593 avanti Cristo. Che cosa fa Solone? Lui annulla tutti i debiti e dà la libertà ai cittadini che erano schiavi per debiti. Inoltre vieta l'esportazione dei prodotti agricoli. In questo modo favorisce il mercato interno, una sorta di autarchia. Ad Atene abbiamo un'altra suddivisione dei cittadini. Vi ricordate quella degli Spartiati, Perieci e Diloti? Ebbene qui abbiamo i Pentacosi o Medimni, i Cavalieri, gli Zeugiti e i Teti. I Pentacosi o Medimni sono coloro che hanno almeno 500 Medimni, quindi unità, di grano. I Cavalieri avevano almeno 300 unità di grano. Quindi vedete questa è una divisione timocratica, cioè basata sul censo, sul denaro. Gli Zeugiti avevano almeno 200 unità di grano e i Teti erano i contadini poveri, non avevano niente, erano nulla tenenti. Come vedete quindi a Solone noi dobbiamo una divisione per censo dei cittadini atenesi. Non solo, a Solone dobbiamo anche una organizzazione dal punto di vista politico. Noi abbiamo già parlato dell'Ecclesia e dell'Aeropago. L'Ecclesia eleggeva i magistrati e approvava le decisioni, mentre l'Aeropago era al massimo tribunale. Abbiamo detto che dopo l'arcontato, gli arconti entravano a far parte di questo organo politico di Atene. Avevamo quindi nove arconti, i quali erano l'arconte eponimo, cioè che dava nome all'anno, l'arconte polemarco, quindi militare, l'arconte basileus, che aveva funzioni religiose e giudiziarie, e i tesmoteti, che erano i custodi delle leggi ed erano sei. Quindi sei tesmoteti più altri tre arconti e si arrivava a nove. Solone però aggiunge due organi. Oltre all'Ecclesia e all'Aeropago che già esistevano, aggiunge il Consiglio dei Quattrocento e l'Eliea. Il Consiglio dei Quattrocento era composto dai Pentacosi o Medimni, dai Cavalieri e dai Zeugiti. Quindi vedete che i tetti non erano inclusi, perché erano gli schiavi, i contadini nullatenenti. Il Consiglio dei Quattrocento elaborava il testo dei decreti, che poi venivano sottoposti all'Assemblea. L'Eliea, invece, è il tribunale popolare, una sorta di tribunale che aveva una funzione di appello quando il giudizio dell'Aeropago era ritenuto illegittimo, ingiusto. Tutti facevano parte dell'Eliea, quindi sia i Pentacosi o Medimni, sia i Cavalieri, sia gli Zeugiti e i tetti. Tutti, perché era una sorta di tribunale popolare. Questa riforma però di Solone in realtà crea malcontento, perché gli aristocratici rimproverano a Solone l'abolizione dei debiti e anche il fatto che lui dà potere alle altre classi. Vedete, fanno parte dell'Eliea addirittura i tetti, quindi questo agli aristocratici non andava bene. Allo stesso tempo però anche il popolo non è contento, lo critica perché non ha ridistribuito le terre. Quindi in realtà questa riforma non va bene a nessuno, un po' come tutte le riforme. C'è sempre qualcuno che si lamenta. Allora, vedendo un po' questo momento di crisi e di scontro, che cosa succede? Succede che qualcuno se ne approfitta. E quindi Pisistrato, di cui avevamo già parlato, menzionando la tirannide, prende il potere. Siamo nel 546. In questo momento quindi a Tene vive la tirannide e Pisistrato è anche un bravo tiranno, si può dire, perché riporta la pace, fa costruire templi, teatri, esercizi pubblici, favorisce i commerci e soprattutto fondamentale è a Pisistrato che dobbiamo l'Eliea dell'Odissea, nel senso che lui le fa mettere per iscritto. Inoltre istituisce la dracma. Vedete qui la civetta che rappresenta Atene. Nel 528 a.C. però salgono al potere i figli di Pisistrato, Ippia e Ipparco, che non sono come il padre, non sono dei buoni tiranni. Infatti instaurano un regime di terrore e si fanno odiare dagli Atenesi. Per questo vengono fatti fuori. Infatti nel 514 Ipparco viene proprio eliminato tramite una congiura, mentre Ippia viene cacciato quattro anni dopo da Atene, anche grazie all'aiuto degli spartiati. Quindi da questo momento di tirannide si arriva all'isonomia, cioè tutti uguali davanti alla legge. Per spezzare infatti il predominio degli aristocratici e mantenere l'isonomia è opportuna un'altra riforma, la riforma di Clistene, che si ha grazie ad una ridistribuzione e una riorganizzazione del territorio. Tra il 508 e il 507 infatti viene eletto Clistene, che divide l'attica in 30 distretti, trittie, che vengono distribuite in 10 tribù. Ora vi spiego meglio. per farvi capire come Clistene riesce a dividere il territorio e a mantenere una sorta di uguaglianza. Lui distribuisce in modo equo perché abbiamo detto che abbiamo delle tribù. Ogni tribù è composta da tre trittie. che significa? Significa che ogni tribù ha una parte della trittia urbana, la vedete qui in verde, una parte della trittia della costa, quindi in porpora, e una parte della trittia dell'interno. In questo modo la distribuzione è equa. Tra le dieci tribù, chiaramente, abbiamo anche delle elezioni. Ogni tribù elegge uno stratega, un arconte e 50 consiglieri. Ed è qui che c'è un ulteriore cambiamento. I consiglieri vengono scelti tramite sorteggio, quindi a caso e senza distinzione di censo. Quindi viene superata la concezione di solone relativa proprio al timocrazia. I 50 consiglieri compongono il consiglio dei 500 e assumono il loro compito per una pritania, cioè per una sessione mensile, quindi cambiano sempre. Viene mantenuta l'ecclesia che viene composta da tutti i cittadini atenesi liberi, quindi dalle dieci tribù. E vengono individuati, come dicevamo, per sorteggio i membri della boulet, quindi del consiglio del 500 e dell'eliea, cioè del tribunale popolare, mentre vengono eletti, come dicevamo, gli strateghi e gli arconti. Dato che ogni tribù sceglie uno stratega e un arconte, abbiamo poi dieci strateghi e dieci arconti, no? Mentre per quanto riguarda il consiglio dei 500, ogni tribù ne sceglie 50, quindi 50 per 10, 500. La boulet, peraltro, è caratterizzata da dieci sessioni. Quindi la boulet è il consiglio dei 500. L'anno atenese viene diviso circa in dieci mesi, ogni mese a 36 giorni più o meno, e quindi noi abbiamo dieci sessioni. Ogni sessione riguarda 50 consiglieri di una tribù. Dunque, in questo modo, praticamente tutte le tribù riescono ad operare grazie ai loro rappresentanti. E per ogni Britania viene anche scelto un presidente. Due volte nella vita si può essere presidenti. Pensate un po'. Quindi questo sistema è altamente rappresentativo. Come abbiamo già detto, l'Elie è il tribunale popolare, no? Viene istituito da Solone. Prima avevamo l'Ecclesia e l'Areopago, poi vengono aggiunte l'Eliea e il consiglio dei 400, che poi diventa dei 500. Bene, l'Eliea, diciamo che da clistene, tiene molti processi. E bisogna stare molto attenti anche ai sicofanti, cioè gli accusatori di professione. Qui vedete una schema che recapitola tutto ciò che vi ho spiegato. Quindi vediamo in cittadini liberi, in dieci tribù che partecipano all'Ecclesia. Abbiamo detto che abbiamo il sorteggio della boulet e dell'Eliea e l'elezione degli strateghi e degli arconti. Abbiamo poi appunto la boulet che è articolata in pritanie, dieci sessioni, come l'anno greco. Queste pritanie sono di 50 consiglieri e hanno anche un presidente. Clistene introduce anche l'ostracismo. Questa parola sicuramente l'avrete già sentita. Viene da ostracon, che è il coccio. Perché? Perché i partecipanti all'Ecclesia votavano scrivendo il nome su un coccio di terracotta, come vedete su questo coccio, dove viene punito, diciamo, viene condannato tale Temistocle. Condanno all'esilio, in questo caso, per dieci anni. Quindi, secondo Clistene, tramite appunto il meccanismo dell'ostracismo, il condannato deve subire dieci anni di esilio. Questo condannato è chiunque venga reputato pericoloso per la democrazia. Spero che questa video lezione vi sia piaciuta. Vi ricordo che ho un'intera playlist dedicata alla storia per la prima superiore che vi lascio qui sopra. Al prossimo video! Ciao! Grazie a tutti.